Musica 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 abbiamo preparato la gara abbastanza bene come al solito la gara di casa ci tengo tantissimo a fare bella figura quest'anno ci stiamo presentando con una piccola ma grande macchina la 106 Group A della Blue Orange l'abbiamo provata giorni fa sono rimasto contentissimo perché non mi aspettavo che una 1.6 Group A poteva andare così forte e dare una sicurezza così come se fosse una Super 1.6 io sono contentissimo che c'è la crocca tanto perché è la prova di casa e poi perché ho fatto sempre bene alla crocca anche se manca la partenza da Favara che è da Grigendo ma diciamo che siamo contenti lo stesso la prova determinante è normale che è la prova della Monchistrello perché è la più lunga e la più completa però secondo me saranno tutte e tre le prove ci saranno poche differenze e pochi distacchi Gabriele lo trovo molto carico e proprio quest'anno mi sento molto onorato di navigarlo perché come ha detto già lui c'è il rientro della prova della crocca che quindi è una prova che lui conosce molto bene anche perché ha il suo record che ancora non è stato battuto quindi sono felice di affrancarlo e sono sicuro che faremo una bella gara anche con questa macchina che rispetto a quelle che ha avuto lui finora è una delle più piccole grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti la prova spettacolo abbiamo perso un po' di tempo perché non inseriva la terza e la quarta stamattina l'abbiamo poi risolto ma abbiamo fatto solo la prova di Aragona bene alla Montaperta a metà prova siamo rimasti di seconda perché si è trangiato la leva del cambio Gabriele lo trovo carico anzi è lui anche che carica me il fatto è che abbiamo avuto questi problemi quindi nella classifica ci hanno un pochettino indretteggiato di posizioni adesso siamo decimi assoluti andremo a giocarsela nelle ultime prove 4 3 2 1 vai sinistra piena 50 sinistra piena 50 per ritardo a poco destra a 4 ritardo a poco destra a 4 per al cartello sinistra a 3 20 al re del sinistra a 3 50 sinistra a 3 50 destra a 3 tieni per testa piena destra a 3 tieni per testa piena 30 destra piena 30 destra a 4 dentro 20 destra a 4 dentro 20 destra piena 50 sinistra a 5 dentro attenzione fondo attenzione fondo sinistra piena per testa piena 20 destra a 3 più destra a 3 più per sinistra a 5 dentro sinistra a 5 dentro 20 sinistra a 5 per subito sinistra a 1 al pivio eh al pivio sinistra a 1 per testa piena 20 destra a 4 subito ritardo a sinistra a 2 più 50 destra piena 20 destra a 5 destra a 5 per sinistra a 4 per destra a 3 sinistra a 4 per destra a 3 30 attenzione sinistra a 3 dentro attenzione sinistra a 3 dentro 20 destra a 4 apri per destra a 5 apri per destra a 5 per sinistra a 5 per destra a 4 sinistra a 4 destra 4, sinistra 4 20, sinistra 3 meno dentro per sinistra piena per destra 4 dentro taglia 30 attenzione, destra 5 con torso fallo bene, destra 5 con torso per sinistra 6 dentro 20 al palo, attenzione, ritardo a destra 2 per sinistra 4 per destra 3 per subito ritardo tornando a sinistra 20 vai 20, destra 4 apri subito a destra 3 dentro subito a destra 3 dentro vai 100 al centro destra piena per attenzione subito chicane, entra a destra ripeto, destra piena subito chicane, entra a destra entra a destra in uscita 50 al punto blu, ritardo a sinistra 3 attenzione, paletti attenzione, paletti 30, ritardo a destra 3 lunga ritardo a destra 3 lunga per ritardo a poco, sinistra 2 ritardo a poco, sinistra 2 per ritardo a poco, destra 2,20 vai destra 2,20 sinistra 5 dentro sinistra 5 dentro 50, attenzione, sconnesso in punto a destra 3, meno dentro 3, meno dentro per sinistra piena sinistra piena per sinistra 3, più dentro per testa 3 subito anticipa sinistra 2 destra 3, meno sinistra 5, vai 100 sinistra 5, vai 100 stai andando alla grande ritardo a destra 3 ritardo a destra 3 dentro ritardo a destra 3 dentro per sinistra 5 dentro 20 destra 4 per arre il sinistra 3 arre il sinistra 3 ritardo a poco, destra 4 attenzione, dorso per sinistra 5 dentro vai 50 vai destra 4 giro subito, chicane entra a sinistra attenzione, chicane entra a sinistra va bene all'uscita 50 destra piena non tagliare attenzione, non tagliare per sinistra piena 20 ai paletti sinistra 5 non tagliare 20 al buro sinistra 3, meno 30 ritardo alla strada destra 2, più alla strada destra 2, più vai 30 sinistra piena per destra 4 sinistra piena per destra 4 ritardo ai mattoni sinistra 4 ai mattoni ritardo a sinistra 4 50 destra e sinistra piena vai 100 vai 100 in ponto attenzione sinistra 3, più subito tornante destra leva facciamolo bene sinistra 3, più subito tornante destra leva fallo benissimo grande grande vai 50 ritardo a poco destra 3, più ritardo a poco destra 3, più per sinistra 5 per il paletto destra 5 per ritardo ritardo sinistra 4 dentro sinistra 4 dentro per destra 5 taglia ripeto destra 5 taglia 20 20 destra piena 20 attenzione d'osso stacca sinistra 5 stacca sinistra 5 per ritardo a poco destra 2, 20 alla strada sinistra 3, più dentro 3, più dentro per destra piena 100 ai paletti stacca per albidio sinistra 2 per tornante destra leva ai paletti stacca sinistra 2 tornante destra leva fallo bello forte tornante destra leva in uscita 50 allo zip sinistra 2 vai allo zip sinistra 2 per ritardo a poco destra 4 ritardo a poco destra 4 attenzione sconnesso per ritardo a poco sinistra 3 per destra 5 sinistra 5 destra 4 anticipa sinistra 5 30 sinistra 4 più dentro 30 ritardo ritardo agli alberi destra 3 più 20 agli alberi destra 3 più 20 grazie a tutti Grazie.